e Stefano e gli altri amici della Master mi hanno invitato a parlare del terremoto. Del terremoto perché? Perché sono passati ormai quasi tre anni e mezzo e anzi, sì, stiamo andando velocemente verso il quarto anno e fondamentalmente non ci sono ancora tutte le ricostruzioni, sono veramente poche. Non solo, ma in tutto questo tempo la gente si dimentica del terremoto, si dimentica del terremoto, si dimentica della paura che c'è stata in quel momento e la ricostruzione può avvenire in maniera molto poco fatta bene, mettiamola così. Per cui io partirei per ricordarci quello che è successo e ogni tanto mi usciranno fuori parole in dialetto, perché appunto è la mia lingua e ci tengo moltissimo, e usciranno fuori anche note polemiche, perché purtroppo questo modo di fare politica e ricostruzione non sta funzionando, per cui penso che in qualche modo bisognerà metterci mano. Pertanto andiamo a vedere subito cos'è successo. Cos'è successo il 24 agosto? Qui vedete sostanzialmente una rielaborazione delle ISO-PGI, io le chiamo, quello che è successo il 24 agosto e come vedete da 0,54G a 0,9G vedete come si è formato questo che assomiglia un po' a un faccione con due orecchie asimmetriche. E questo era il 24 agosto. Il 26 ottobre è successo questo, dove vedete che il problema si è notevolmente amplificato, non solo, ma se ci fate caso rispetto al precedente, questo, il sisma del 26 ottobre aveva una direzionalità, se ci fate caso tutte le ISO-PGI hanno una direzione nord-sud, chiamiamola, molto molto accentuata. Questo invece è quello che, andiamo avanti e non indietro, chiaramente, questo è quello che è successo invece il 30 ottobre alle ore, se non ricordo male, era mattino presto, le 7 e un quarto, qualcosa del genere. Perché vi dico questo? Perché purtroppo la gente, tranne quelli del cratere, non si ricorda più di quello che è successo. E pertanto, siccome l'associazione Master è un'associazione nazionale, appunto, bisogna ricordare ai fuori cratere quello che è successo. Non ci scordiamo della scossa del 18 gennaio, che è spostata più a sud, ma nello stesso tempo ha fatto i suoi problemi nella zona del Terramano. Questi sono tutti gli epicentri con magnitudo superiore a 2 dal 24 agosto fino al 18 gennaio. Qui adesso vedete un attimo quello che è successo con una sequenza YouTube scaricata dal sito dell'INGV che parte dal 23 agosto al 21 gennaio. E vedete in un minuto quello che è successo, quali sono le stelle, chiaramente sono quelle con magnitudo maggiore, e poi andremo a vedere quello che succede quando c'è l'esplosione delle varie situazioni dove si sposta più a nord e poi si sposterà più a sud il 18 gennaio. Come vedete è impressionante il numero di sismi che è avvenuto e qui si è tagliato sopra 2,5, non si sono tenuti in conto quelli sotto a magnitudo 2. adesso usciranno fuori più a sud che lo vicino a Monte Reale. Pertanto questi sono il numero dei dei terremoti che sono avvenuti fino dal 24 di agosto fino al 10 aprile 2018. Come potete vedere ci sono i picchi delle varie delle varie situazioni. Qui devo ringraziare il contributo di Lucia Luzzi che è un non un collaboratore è un lavora all'Ingv e mi ha fornito questi 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 dati. Questi sempre è una sua mi ha fornito anche questo e questo fa vedere con i vari colori la sequenza di col fiorito del 97 in azzurro e in grigio invece la sequenza del 24 26 e 30 di ottobre. Ma tutto a posto? No, andiamo a vedere perché adesso io qui vi voglio far vedere un'altra mia fissazione ovvero il controllo dei vari terremoti. Questi numeri ci danno soltanto la localizzazione questo è il terremoto a Norcia del 30 10 2016 se noi andiamo a vedere vedete come la 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 Z è in blu e nord e est sono arancione e grigio come potete vedere anche la componente verticale è molto importante in questa situazione pertanto il fatto che noi strutturisti ci dicono che la componente verticale non serve a nulla poi quando andiamo a vedere questa cosa serve come questa è componente la massima componente orizzontale con la con la componente verticale questo invece è gli spettri che della componente est e ovest è lo spettro da NTC questo sarebbe lo spettro regolarizzato secondo le nuove l'ordinanza 55 quello che dovrebbe essere il vero problema come potete vedere in quel tipo di terreno cioè un terreno di tipo di tipo C se non ricordo male si ha uno spostamento molto a destra pertanto tutta la parte a periodi più alti ha creato maggiori problemi in quel tipo di edificio e se pensiamo a quello che è successo a Norcia e alla caduta di edifici tipo la chiesa di San Benedetto che sicuramente per la sua conformazione cioè un grande ambiente molto alto sicuramente avrà avuto delle frequenze e dei periodi di oscillazione più alti rispetto alle case che normalmente con quelle altezze hanno dei solai intermedi lo stesso a Norcia in un altro terreno B possiamo andare a vedere un'altra stazione quello che è successo andiamo via velocemente e qui vedete cosa può succedere quanto più alto è il lo 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 spettro l'accelerazione che è arrivata rispetto a quella di progettazione Castel Sant'Angelo sul Nera per cui torniamo più vicino alle nostre alle nostre parti lo stesso si può vedere come questa sovrapposizione è importante e come anche lo spettro regolarizzato è sicuramente superiore allo spettro da 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 normativa Castelluccio di Norcia lo stesso qui ci troviamo su un terreno di tipo A per cui sembrerebbe più ricido però purtroppo qui il terremoto ce l'avevano a un tiro di stioppo e questo chiaramente potete vedere quanto molto superiore è il lo spettro teorico di progetto rispetto a quello che hanno utilizzato fino a ieri perché vi faccio vedere questo di Pieve Bovigliana del 10 aprile 2018 perché questo qui è stata una cosa molto fortunata dopo il terremoto del 24 agosto l'ingv ha messo delle stazioni provvisorie di cui uno anche a Pieve Bovigliana su un su un terreno di tipo B C perché non hanno ben fatto vedete un attimo quello che è successo guardate cosa è successo la diciamo l'epicentro era a soltanto tre chilometri dalla stazione di registrazione non solo ma questo terremoto era uno di quei terremoti che nessuno ha sentito cioè un terremoto di magnetuto 4 ovvero nessuno ha sentito tutti hanno sentito nella zona dell'epicentro ma chiaramente nessuno ha sentito già a macerata pertanto questo è per dire due fattori importanti la nostra mappa di pericolosità sismica tiene conto benissimo dei terremoti forti che avvengono abbastanza lontani cioè diciamo 20 chilometri dal nostro sito ma quando il terremoto come dico io ci viene sotto al culo cioè sotto al sedere cioè nel punto proprio sotto a dove noi stiamo purtroppo in quella situazione il la normativa la zonizzazione sismica purtroppo sottostime il terremoto che ci arriva pertanto quello che sto dicendo non è che la nostra mappatura sismica è sbagliata purtroppo bisogna tener conto noi progettisti dobbiamo tener conto del fatto che ci può capitare che il terremoto ci arrivi sotto al sedere ebbene se ci arriva sotto al sedere la mappa sottostima il terremoto di progetto per cui è importante un'altra cosa fondamentale e questo è successo purtroppo non ho caricato questo tipo di fotografia è ricordiamoci avete visto la sequenza quanto è stata lunga e quanti terremoti molto forti sono avvenuti bene io l'edificio lo possiamo paragonare ad un pugile allora che succede che il pugile della prima la prima come si dice al primo round subisce può subire dei colpi anche importanti e non cadere a terra ma quando di questi colpi ne subisci uno due tre quattro questa sovrapposizione chiamiamola degli effetti di colpi chiaramente portano che alla fine arriva un terremoto di quarto grado di una magnetudo quattro cioè un'accelerazione relativamente bassa che ti butta a terra pertanto anche questo per esempio questo la normativa non tiene in conto la normativa non tiene in conto di questa sovrapposizione degli effetti dei danni successivi cioè io dico sempre non è detto che una persona che ha superato un infarto è collaudato all'infarto e questo lo diceva anche un ingegnere che voleva fare il voleva fare il commissario se uno ha avuto un infarto non è collaudato all'infarto ha subito un infarto l'ha superato quando arriverà purtroppo se arriverà un altro infarto sicuramente lui quell'infarto lo troverà più debole rispetto alla condizione originale pertanto è importante capire questa sovrapposizione degli effetti e molto spesso i danni che il terremoto lascia non sono sempre visibili sia nelle murature ma soprattutto nell'acciaio e nel calcio estruzzo qui ho messo ho fatto una ho tirato fuori da questa tabella nemmeno mi ricordo dove l'avevo tirata fuori tutte le coordinate con il confronto fra le accelerazioni di 24 agosto ottobre e 26 ottobre e 30 ottobre quelle registrate nei luoghi e quelle che sarebbero le SLV di quel posto ma cosa è successo? andiamo a vedere gli effetti di tutto sto casino bene i comuni del cratere sono 138 comuni erano 140 poi due comuni sono si sono due fusi e uno ha inglobato un altro Pievovigliana e non mi ricordo come si chiama l'altro comune vabbè pazienza si è unito ad un altro ad un altro comune ed è venuta fuori Val Fornace Fiastra ed Acquaganina invece Fiastra ha inglobato Acquaganina e c'è solo il comune di Fiastra per tanto ci sono 138 comuni pertanto noi che andiamo a vedere abbiamo 138 comuni del cratere e 364 comuni fuori del cratere sono stati toccati da problemi sismici su un totale di 500 sono 502 comuni cioè il 50% di tutti i comuni di queste quattro regioni qui vediamo ma velocemente regione per regione quanti comuni sono stati colpiti ma andiamo a vedere la stima del danno cioè noi abbiamo 80.000 potenziali richieste di contributo pertanto pensate un attimo quale montagna di problemi e di soldi ci saranno da spendere per rimettere in piedi questa situazione qui c'è una divisione delle varie AEDES agibili non agibili e quant'altro e quelle redatte dai professionisti e andiamo a vedere cosa è stato presentato su 80.000 ne sono state presentate 80.000 su tutto cratere fuori cratere e sulle quattro regioni qui stiamo parlando su tutte le regioni bene sono state presentate 12.000 pratiche cioè soltanto il 15% e soltanto il 6% sono state decretate ho chiesto al commissario di fornirmi quante di queste pratiche sono state terminate non me non me l'ha non me l'ha non me l'ha fornito diciamo che su secondo me siamo nell'ordine dell'1% nemmeno altro cosa importante perché sì dire il numero di cratere ma su questo su questo cratere ci so ci gravitano 582.000 persone c'è un una superficie di circa 8.000 chilometri quadrati per cui è una una cosa enorme enorme se noi andiamo a fare il totale delle abitazioni censite diciamo che queste vengono considerate su 80.000 noi abbiamo che 816 24 32 circa un quarto delle abitazioni sono state sono state purtroppo danneggiate queste sono invece quelli del cratere nel cratere sono circa 70.000 68.000 le domande di richiesta di potenziale contributo e così via andiamo avanti che cosa hanno fatto hanno diviso chiaramente la nostra ricostruzione cioè la ricostruzione pubblica che ha un canale e viene gestita da comuni e da e da curie sostanzialmente province e quant'altro e ci sono le opere private nei comuni per le opere pubbliche ci sono chiaramente scuole beni culturali e e quant'altro e qui ci sono anche tutte le somme e tutti quello che hanno programmato e i relativi le relative ordinanze che gestiscono le singole le singole ricostruzioni ad esempio qui abbiamo che le scuole sono normalmente ordinanza 14 e 33 le opere pubbliche l'ordinanza 37 e 56 le stalle la 68 e così via qui ho fatto un altro schema questi dati sono tutti pubblici e sono quelli tratti dal report che ha fatto il commissario Faravollini per fine anno come libretto di quello che lui non è riuscito a fare e pertanto qui c'è sempre una schematizzazione diversa della ricostruzione pubblica con gli interventi per le singole ordinanze lo stesso qui è un'altra schematizzazione dei lavori adesso così giusto per fare una leggerissima nota polemica come potete vedere i beni culturali hanno sempre un peso molto importante primo perché sono purtroppo quelli che hanno avuto molti più danni ma sono sempre diciamo che i nostri vescovi sono sempre molto capaci di perorare le loro cause e pertanto per carità fanno bene il loro mestiere di amministratori bene adesso dobbiamo capire quali sono le fonti normative che ci fanno impregare ogni giorno bene la bibbia di noi terremotati è il decreto legge 189 questo decreto legge come potete vedere è stato modificato soltanto 17 volte non solo il commissario emana le proprie ordinanze bene queste 97 ordinanze pesano per circa 1500 pagine ma vediamo quali sono le fondamentali per quelle che interessa a noi comuni mortali cioè per la ricostruzione privata l'ordinanza 4 e 8 è riparazione danni lievi l'ordinanza 9 delocalizzazione l'ordinanza 12 parcelle rincarichi forse questa è la più importante di tutti ma vabbè questa è una una questione nostra perché è importante perché primo qui ci stanno portando in giro perché l'allegato all'ordinanza 12 che è la bibbia per noi progettisti che ci dice il numero degli incarichi che noi possiamo prendere e soprattutto quanto ci devono pagare è scaduto il 31 12 2018 pertanto questa cosa non è stata ancora aggiornata e a livello nazionale la RTP e il nostro Zambrano che è il presidente della RTP e i nostri ordini purtroppo non si fanno carico di dire guardate signori che questa cosa deve essere aggiornata ordinanza 13 ricostruzione delle attività produttive danni gravi perché le attività produttive con danni lievi rientra nelle ordinanze 4 e 8 ordinanza 19 ricostruzione danni gravi il 189 dispone nell'oggetto le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione ricostruzione assistenza e la l'assistenza alla popolazione la ripresa economica dell'attività gianneggiata riparazione ricostruzione assistenza alla popolazione e ripresa dell'attività economica fino adesso di queste 4 oggetti del 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 189 non è stato fatto quasi niente perché tutto quello che è assistenza siamo ancora sotto legida della protezione civile e non del 189 qual è la governance il commissario i presidenti i vice commissari sono i presidenti delle regioni poi c'è una cabina di coordinamento dove ci sono dentro anche gli OSR e il comitato istituzionale che dovrebbe dare delle indicazioni il commissario che deve fare attua provvede all'attuazione che cosa deve fare provvede all'attuazione degli interventi assicura una ricostruzione omogenea unitaria e provvede l'uso delle risorse finanziarie inoltre dovrebbe coordinare gli interventi sovraintendere l'attività dei vice commissari e veglie sull'attuazione degli interventi e dovrebbe emanare ordinanze qui diciamo che questa cosa gli è riuscita particolarmente bene appunto sulle 97 ordinanze che ha fatto i presidenti delle regioni e i vice commissari pertanto che cosa fanno invece esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno dell'impresa e alla ripresa economica sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi della ricostruzione privata e presiedono nel comitato composto presiedono un comitato istituzionale composto dal vice dal vice commissario appunto dai presidenti dei provindici e dai sindici dei comuni di quel del cratere l'attività istruttoria l'attività istruttoria la fanno due soggetti l'USR che c'è l'ufficio speciale per la ricostruzione e i comuni l'USR che cosa fa cura la pianifica dovrebbe curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ma questa è una cosa che non ha fatto che non farà perché non ha le capacità ha delegato tutta i comuni che chiaramente anzi l'USR ha detto ai comuni di non fare questa pianificazione perché è solo una perdita di tempo pertanto noi ci ritroveremo delle brutture come erano prima perché perché senza pianificazione cioè senza visione e pianificazione purtroppo non si fa una buona ricostruzione e poi c'è la parte che fanno realmente e la fanno anche male cioè curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni dei contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata scusate ma ho tolto siccome c'è il sole della finestra avevo messo la visiera alla mia telecamera perché altrimenti gli dava fastidio adesso l'ho tolto perché si può togliere il cappello perché il sole è sceso i comuni invece che devono fare fanno sicuramente l'istruttoria per il rilascio dei titoli edilizie abilitativi e abilitativi cioè nel senso non è stato tolto ai comuni la capacità di dare i permessi di costruire e di controllare le scia cioè controllare la e chiaramente vedere anche la come si dice la regolarità urbanistica dell'edificio abusi o non abusi non solo ma è ancora l'unico titolare per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività produttive i comuni poi potrebbero avvocare a sé alcune funzioni dell'usr ma limitatamente per i danni lievi e per gli l4 per cui potrebbero fare da usr per queste per queste pratiche limitatamente a questo tipo di pratiche bene questo tipo di lavoro non è non è stato adottato cioè su 138 comuni da da informazioni che ho avuto così da amici del del di rieti cioè del commissario soltanto se non ricordo male 4-5 comuni hanno chiesto questa hanno avvocato a sé questa questa operazione perché molti chiaramente pensiamo un comune di visso non non riesce a fare il suo lavoro già adesso figuriamoci se si mette a fare anche il lavoro dell'usr le tipologie dell'intervento vengono dettate dall'articolo 5,2 c'è un errore nel nel pallino centrale e sostanzialmente sostanzialmente questi sono tutti gli interventi che vanno dalla riparazione ai danni sui danni delle scorte i danni prodotti in fase di stoccaggio i danni alle strutture socio-sanitarie i danni agli edifici vincolati i traslochi le localizzazioni gli interventi sociali un po' quello che avevamo visto in quella tabella degli interventi del commissario questo dovrebbe fare dovrebbe fare il commissario ai sensi del del 189 quali sono i beneficiari del contributo i beneficiari del contributo sono quelli che stanno che hanno una casa ho sbagliato scusate quelli che hanno una abitazione principale quelli che avevano case affittate le seconde case i proprietari e gli usufruttuali i titolari di diritti reali che non sono nella situazione in una di queste tre situazioni precedenti e i titolari di attività produttive l'istruttoria dell'USR prima cosa verifica l'ammissibilità poi che cosa succede l'ammissibilità ai sensi della ordinanza 62 e poi manda la roba ai comuni che fanno i comuni controllano se le opere sono difformi o meno se sono nel cratere io posso applicare l'articolo 1 sexies e posso per vedere se è ammissibile se posso sostanzialmente sanare questa queste opere difformi se non posso sanarle c'è il ricetto fuori cratere invece bisogna controllare se quell'abuso ha rilevanza strutturale o non ha rilevanza strutturale se quell'abuso ha rilevanza strutturale si ricetta la pratica se l'abuso non ha rilevanza strutturale si accetta la pratica sostanzialmente se hai fatto un errore strutturale fuori cratere io non te pago allora intercontributivo l'attività istruttoria dell'USR deve pertanto io che cosa devo portare che cosa devo mandare all'USR l'ordinanza di inacebilità che verifica la correttezza dei proprietari acquisisce deve acquisire necessariamente prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo devo fare un inquadramento territoriale chiaramente ci devo mettere dove sta perché devo far capire dove sostanzialmente sta il mio edificio e se sta ad esempio in una zona a rischio idrogeologico e quant'altro per cui devo mettere tutte le vincolistiche paesaggistica ambientale idrogeologico culturale e quant'altro devo fare una perizia severata dei danni e poi su questo ne parleremo verso la fine con una relazione tecnica di valutazione del livello operativo più devo fare una relazione di vulnerabilità dove devo descrivere le caratteristiche tipologiche dell'immobile devo dimostrare analiticamente il danno devo descrivere eventuali vulnerabilità e devo descrivere gli interventi da seguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per ridurre le eventuali vulnerabilità devo fare un rilievo materico un quadro fessurativo e una documentazione fotografica e qui penso a quello che può fare William con la sua o chi come lui fanno il tipo di rilievo con l'aserscanner ad oggi un rilievo con l'aserscanner sicuramente è la miglior fotografia dell'edificio se penso se nel 97 quando noi abbiamo fatto i lavori nel 97 avessimo potuto utilizzare questo tipo di tecnologia avremmo oggi una fotografia del dello stato dei luoghi ma qui io perché e qui faccio apro una parentesi molto polemica e dico quanti comuni hanno fatto una fotografia non chiaramente i comuni come Amatrice dove non c'era più nulla ma per esempio dico Camerino perché non hanno fatto un volo un volo con drone o con lungo le vie per dare un fare una fotografia dello stato dei luoghi no non è stato fatto perché perché i nostri sindaci sono dei semplici amministratori di condominio non hanno una struttura mentale per dire come poter pianificare un un intervento così mostruoso che è quella della ricostruzione post-sismica andiamo avanti chiudiamo la parentesi parentesi perizia asseverata d'età dunque ho rilievo materico sono sbagliato sono tornati indietro progetto architettonico e progetto strutturale documentazione in materia di opere di efficientamento energetico il piano di sicurezza interventi su edifici devo far vedere se ho un edificio che è stato interessato da precedenti eventi sismici devo presentare comunque la documentazione questo comporta comunque una grossa perdita di tempo perché io devo fare un ulteriore accesso agli atti in comune per prendere tutto quello che è necessario per poterlo poi presentare all'ufficio per la ricostruzione tra l'altro questa è una perdita di tempo perché l'ufficio per la ricostruzione che è guidato dal direttore del com dell'epoca basterebbe che bastava prendere tutti i progetti del novantasette e sovrapporli con quello che sta succedendo adesso per capire e pertanto ce li hanno già è inutile che ce li vengono a chiedere a noi però purtroppo questo non funziona in Italia documentazione comprovante la sussistenza del rapporto pertinenziale tra l'immobile principale e le pertinenze esterne sì perché possono andare a contributo anche le pertinenze esterne legate chiaramente all'edificio principale se chiaramente queste hanno una scheda Aedes propria poi bisogna fare un quadro riassuntivo delle superfici nette su pianti e sezioni e devono essere tutte quotate chiaramente qui la superficie netta non è la superficie calpestabile ma bisogna tener conto soltanto della superficie escludendo gli sguinci delle finestre escludendo quello che sta sotto alle porte pertanto soltanto la superficie netta del nostro edificio e qui apro una parentesi che è stata parzialmente corretta dalle ultime ordinanze dove tutta la normativa sismica nasce come figlia della normativa emiliana dove io purtroppo ho lavorato in quel luogo e lì i muri massimi più stessi che ho trovato erano da tre teste massimo quattro teste cioè 50 centimetri da noi il muro minimo è da 50 centimetri per cui l'incidenza delle murature è molto più importante andare a riparare una muratura da 30 centimetri o da 50 centimetri o andare a riparare una muratura da un metro o da un metro e cinquanta è completamente diversa primo per questioni di costo secondo per questioni di tecnologie da applicare bisogna poi mettere dentro elenco prezzi analisi prezzi computometrico estimativo e qui diviso per macro categorie di interventi indagini prove finiture connesse strutture e quant'altro fare un quadro tecnico economico riepilgolativo con le varie macro categorie e la verifica del costo ammissibile anche qui apro un'altra parentesi sulla questione del costo ammissibile tutti quanti noi progettisti abbiamo fatto il nostro foglietto elettronico per il calcolo del contributo bene loro ce ne hanno un altro e normalmente non porta mai pertanto anche qui perdite di tempo perché ogni volta devi andare giù per contrattare quello che secondo loro va bene o non secondo loro va bene tra l'altro tu hai davanti una persona ti dice una cosa vai a parlare su un'altra pratica con un'altra persona te ne dice un'altra e qui apro un'altra parentesi polemica come si dice a noi l'Upesce puzza sempre dalla testa per cui sicuramente in questo USR manca un coordinamento molto stringente che ti dice quello che deve fare non parliamo USR macerata caccamo usr ascoli funzionano in maniera diversa opere ammessibili a finanziamento per i danni lievi i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali opere di pronto intervento opere di riparazione di danno e rifazzamento locale opere per la riduzione delle principali vulnerabilità all'interno dell'edificio opere di finitura comune interne strettamente connesse comprensive di impianti ed eventuali opere di efficientamento energetico sono anche ammissibili dei lavori in economia da parte dell'impresa però devono essere inferiori al 2% per i danni gravi sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti anche qui per le indagini di laboratorio sui materiali opere di pronto intervento e di messa in sicurezza opere di miglioramento adeguamento sismico o ricostruzione opere di finitura interne ed esterne strettamente connesse per strettamente connesse si intende collegate alle opere strutturali gli impianti le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche le opere di adeguamento igienico sanitario energetico e ad antincendio anche qui sono possibili dei lavori in economia per un massimo del 2% sempre per l'impresa che dà l'impresa affidataria il calcolo del contributo va per unità immobiliare pertanto il costo dell'intervento dell'edificio è dato dalla somma del costo del costo di ogni singola di ogni singola unità immobiliare pertanto il mio calcolo del contributo sarà dato da superficie dell'unità immobiliare per il costo parametrico per le eventuali maggiorazioni e mi dà il contributo dell'unità immobiliare 1 la somma delle tre unità immobiliari mi darà la somma del contributo totale dell'edificio qui si apre una parentesi perché e qui sono slide tratte come vedete sotto da una spiegazione fatta da USR Umbri che non hanno che non hanno una ripartizione delle spese che non ha nessun fondamento giuridico e su questo abbiamo studiato con l'università di Camerino questa cosa ma qui è una presa di posizione dell'USR Umbro che ha esteso a tutti gli altri USR USR Umbro che era come dire che era stato anche parte nella ricostruzione emiliana e sostanzialmente ripeto la ripartizione delle spese non ha nessun fondamento giuridico perché la ripartizione dei costi di costruzione avviene per unità immobiliare per assurdo io faccio sempre l'esempio se io ho un edificio con un piano debole pertanto tutto il piano terra si rovina perché funge da fusibile per tutto l'edificio io potrei avere che l'ultimo piano non ha nessun danno bene il piano terra non cioè l'ultimo piano non aiuta il piano terra a riparare i danni ma se per caso non gli bastano i propri soldi lui si deve accollare le spese e l'ultimo piano non aiuta il piano terra l'ultimo piano che è stato salvato dal piano terra non viene non aiuta questo piano terra ad aggiustare i danni che hanno salvato lui pertanto è un assurdo giuridico tra l'altro non tengono conto appunto delle degli articoli 1123 del codice civile del 1117 del codice civile che dice un'altra cosa tra l'altro e qui ho sentito anche le banche loro non tengono conto che il valore dell'edificio nel momento in cui non è danneggiato è zero e questo non lo dice Roberto Di Cirolamo ma lo dicono le banche che nei mutui quando un edificio se io ho un mutuo con una banca e il mio edificio è inacibile quando loro vanno a fare a fine anno la loro contabilità sostanzialmente non mettono il valore del mio edificio perché quel valore per loro non c'ha valore quell'edificio perché un edificio è valigibile e non ha valore pertanto e qui entro in un caso specifico non andrebbe fatta la ripartizione come fanno loro su millesimi di superficie ma devono fare una ripartizione secondo quello che è il valore dell'edificio e il valore della unità immobiliare il valore della unità immobiliare è dato dal contributo che lo Stato dà a quella unità immobiliare purtroppo questo non è stato capito abbiamo spedito un documento al nuovo commissario speriamo che accetti queste nostre osservazioni documento che non ha scritto ripeto Roberto Di Cirolamo ma c'è l'aiuto ho scritto anch'io però fondamentalmente è stato scritto con l'aiuto di giuristi fini giuristi qui dell'Università di Camerino che mi hanno dato una mano a sviscerare queste problematiche pertanto qui poi c'è tutta come viene fatta il contributo allora determinazione del contributo concedibile possono essere pagate chiaramente le abitazioni principali e le attività produttive le abitazioni le seconde case dentro cratere e le seconde case fuori cratere ma che sono all'interno dei centri storici e dei borghi caratteristici in questo caso si paga il cento per cento delle strutture e il cento per cento delle finiture nel caso di abitazioni diversi dai casi A e B cioè non di abitazioni principali ma di secondi case fuori cratere che non stanno all'interno dei centri storici in questo caso case che non stanno seconde case che non stanno dentro ai centri storici e fuori cratere pagano il cinquanta per cento del costo ammissibile delle strutture e il cinquanta per cento del costo ammissibile su finiture interne se all'interno di una di una seconda di un di un edificio c'è una un'unica unità immobiliare prima casa qui che cosa fanno pagano il cento per cento delle strutture e il cinquanta per cento delle finiture questo è quello che stanno facendo adesso qui apro un'altra parentesi stanno facendo un errore perché il centottantanove dice un'altra cosa prime case vengono pagate le seconde case vengono pagate al cinquanta per cento punto questa questa fattispecie non esiste questa fattispecie non esiste nel centottantanove livello operativo che è la cosa fondamentale perché dal livello operativo parte tutto quello che è i soldi sostanzialmente va bene qui adesso facciamo una cosetta sciocchina meccanismi di primo modo e secondo modo classico meccanismi di primo modo con i meccanismi fuori di piano con il ribaltamento delle facciate qui ci stanno i meccanismi di secondo modo con le classici taglia X delle nostre delle nostre murature meccanismo verticale per esempio qui adesso vedo una cosa e mi imbufalisco come vedete qui c'è un danno che non è mappato cioè lo mettono come danno ma se noi andiamo a vedere questo danno non esiste nelle tabelle di danno che ci hanno dato qui voi vedete una traslazione orizzontale degli edifici questo è successo soprattutto nelle zone epicentrali dove chiaramente che è successo che gli edifici sono traslati rigidamente una parte dei piani sono traslati rigidamente sulla parte sottostante per quale motivo perché qui in questo caso il sisma verticale è stato molto importante pertanto che cosa succede è un po' come se io stessi su un su un un tappeto elastico un tappeto elastico e arriva uno che mi dà una spinta bene se questa persona mi dà una spinta mi butta fuori dal tappeto elastico bene qui è successa la stessa cosa l'edificio saldellava il rivato siccome le onde primarie quelle verticali arrivano prima delle onde secondarie che danno le spinte orizzontali che succede che questo mentre stava su e stava tornando giù e pertanto si alleggerisce arriva la spinta orizzontale e ci sono queste traslazioni bene questo è un tipo di traslazioni non esiste sulle tabelle di danno riferimenti normativi sono quelli di prima qui ho solo riportato queste ancora ordinanza 4 e 8 danni lievi ordinanze 13 attività produttive ordinanza 19 pesante l'ordinanza 80 perché è importante perché è quella che ha revisionato questa roba valutazione preventiva del livello operativo questa qui è stata inserita ed è stata una conquista perché in questa maniera se io fisso il livello operativo chiaramente so esattamente a che cosa vado incontro cioè so esattamente qual è il mio contributo più o meno e pertanto so esattamente quanto ho a disposizione per rimettere a posto l'edificio altra cosa fondamentale io apro purtroppo troppe parentesi ma qui è fondamentale capire che noi progettisti dobbiamo fare il progetto sull'edificio non sul contributo invece questi signori dell'USR vogliono che noi facciamo il progetto sul contributo in modo che non ci siano problemi ma il progetto sul contributo porta ad un progetto sottostimato noi da professionisti dobbiamo fare un progetto sull'edificio quello che porta porta perché se no come cacchio facciamo a firmare che quella roba sta su da cosa si parte dalla definizione di unità strutturale è inutile che ve lo posso però la gran parte di noi sa come come funziona cioè tutto quello che è il nostro edificio l'unità strutturale è quella cosa che chiaramente ha una dignità dei carichi verticali che porta a terra qui ad esempio potrebbe essere benissimo che questa unità immobiliare passa su quest'altra abitazione perché magari nel tempo io sono andato ho acquisito un piano da questa parte e ci ho fatto due camere una cucina ma la mia unità strutturale è questa poi che l'unità immobiliare in parte sta da una parte in parte sta da quell'altra è un'altra cosa però l'unità strutturale è questa qui se poi si andrà in aggregato vedremo un'altra cosa pertanto bisogna controllare cosa bisogna controllare quando andiamo a controllare l'unità strutturale per esempio se i piani sono sullo stesso tipo la tipologia costruttiva se i solai sono intestati sullo stesso tipo sullo stesso piano cioè bisogna capire da ingegneri come è stato costruito cioè bisogna fare un'anamnesi dell'aggregato e capire se quell'unità strutturale è collegata all'altra o meno poi e qui apro sempre le le nostre i nostri aneddoti eh un mio collega eh mio carissimo amico anzi oltre che collega eh aveva un edificio degli anni cinquanta in campagna dove buon da loro l'avevano costruito una parte tre piani una parte due piani perché gli piaceva così unica unità strutturale costruiti tutti e la stessa maniera si erano ritrovati addirittura i progetti consegnati in comune cioè la richiesta di autorizzazione a costruire chiaramente era degli anni cinquanta non c'era un deposito però c'era il disegno consegnato in comune bene questi signori dell'USR non volevano capire che lì loro dicevano che erano due unità strutturali perché? perché chiaramente avevano altezze diverse cioè anche qui bisogna capire eh bisogna essere così ingegneristicamente intelligenti del capire quello che ci stiamo che andiamo a vedere purtroppo questi signori leggono la legge io li chiamo crocettari nel senso che purtroppo questi signori se non vedono la casella dove mettere la crocetta per loro il problema non si può porre e invece il costruito e voi che ci sbattete la testa come me tutti i giorni sapete benissimo che il costruito ogni costruito è ogni edificio è un qualcosa a sé stante che ha delle sue caratteristiche sì a volte può essere simile a qualcosa che noi abbiamo lì di fianco ma non è detto che sia uguale pertanto queste case particolari vanno gestiti in maniera in maniera opportuna scusate prendo un goccio d'acqua allora andiamo avanti questa identificazione dell'unità strutturale può essere modificata perché molte AEDES e molte FAST sono state fatte in maniera non corretta e pertanto nel momento in cui io vado a presentare il progetto posso modificare questa la definizione che hanno dato nell'AEDES delle unità strutturali e dividerle in più unità strutturali perché è importante il livello operativo perché sostanzialmente mi dà il costo convenzionale cioè il costo quanto può prendere il mio edificio e da quanto può prendere il mio edificio poi devo fare devo confrontarlo col costo dell'intervento e capire come si sposano queste due se il costo del convenzionale è maggiore del costo dell'intervento benissimo lo Stato mi dà il cento me lo paga completamente ma se il costo dell'intervento è maggiore del costo convenzionale qui ci sono degli accolli allora il livello operativo si scompone di due parti di danno e vulnerabilità prima andiamo a vedere il danno quello che quelli danni che ha comportato il sisma e la vulnerabilità che è insita che può essere del materiale o della conformazione per come è fatto l'edificio fatto nel livello il livello operativo che cosa faccio io ho uno stato di danno una vulnerabilità e questa matrice mi dà il costo questo costo ad esempio L3 e io ho che fino a 130 metri quadrati è 1250 euro al metro quadrato e a scendere a seconda della situazione un'altra delle osservazioni sempre noi ingegneri purtroppo ci sbattiamo sempre con i soldi anche un'altra delle osservazioni che ho fatto è che questa tabella è stata creata nel 2017 7 aprile 2017 perché questi valori non vengono aggiornati almeno ogni due anni con il dell'incremento Istat secondo me sarebbe giusto che ci fosse un meccanismo che adegua automaticamente questi anche ogni anno tanto sappiamo esattamente uno dice a marzo di ogni anno uno vede l'incremento Istat rispetto all'anno precedente e vede e adegua i costi a quelli che sono l'incremento Istat purtroppo questo non c'è rilevo geometrico e qui purtroppo non non ho pensato che prima di me c'era qualcosa di molto più interessante rispetto a quello che rispetto a quello che che presento io chiaramente William ha presentato tutt'altra cosa vedo vedo un attimo alcune domande ma come giustamente diceva prima sia Stefano che facciamo tutto alla fine per cui vedo Andrea Pace dopo se hai così il se hai la pazienza di aspettarmi ti tuoi rispondo altra questione rilievo geometrico rilievo qui ho portato degli esempi rilievo materico rilievo materico per il cemento armato chiaramente e il quadro fessurativo che è fondamentale perché dal quadro fessurativo poi io devo andare a tirar fuori e alla documentazione fotografica relativa devo andare a definire il danno altra stupidaggine che c'è nell'ordinanza 19 noi abbiamo qui danno lieve danno grave danno gravissimo superiore al gravissimo abbiamo qui sostanzialmente abbiamo anche un danno superiore al danno gravissimo qui purtroppo abbiamo uno stato di danno in più che chiaramente non riporta con la scalettatura cioè qui ci manca una casella ma purtroppo nessuno se ne è accorto ma si se ne sono accorti tutti ma nessuno 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 dice nulla e sta lì una casella in più che non serve vabbè è inutile che qui esso ci mettiamo a leggere esattamente nella muratura quali sono le lesioni andiamo a vedere ad esempio qui nelle murature crollo dei tamponamenti chiaramente questi potrebbero essere bisogna capire come quali tamponamenti sono 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 caduti nel cemento armato qual è la carenza e qual è danno questa è carenza questo è danno questo è danno ma con questo danno io non sto in con questo danno io vado quasi sicuramente in L4 quasi altra cosa stupida che ci sta nelle 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 norme io posso arrivare tranquillamente in L4 con su strutture in cemento armato soltanto con il danneggiamento delle tramizzature e tamponature anche senza nessun danno strutturale posso arrivare in L4 solo con danni alle tamponature senza nessun danno strutturale ma posso avere per apportare in L4 una struttura in muratura devo tribolare parecchio pertanto è molto più facile portare a demolizione una struttura in cemento armato che una struttura in muratura lesioni strutturali come poterle misurare e andiamo a vedere per esempio sui prefabbricati il danno ai collegamenti il ribaltamento delle tamponature la sconnessione fra trave pilastro e il fuori piombo dei pilastri la perdita dell'appoggio qui dove c'è come potete vedere le balle di paia hanno fatto come dire da puntello ovvero quando le balle di paia non ci stanno il puntello non esiste più cedimenti delle fondazioni quando c'ho un cedimento in fondazione non c'ho danno lieve c'ho direttamente danno grave altra domanda che molti si fanno ma anche un'altra cosa altra parentesi i danni delle schede Aedes non sono corrispondenti ai danni delle ordinanze 4, 8 e 19 e 13 chiaramente pertanto io potrei avere che una scheda Aedes B può portare a un danno anche grave per cui a un miglioramento sismico cioè io potrei avere un danno Aedes B ma perché il danno Aedes è più piccolo considera meno alcune cose il danno Aedes rispetto ai danni dalle tabelle di danno delle ordinanze 13 e 19 4, 8 13 e 19 pertanto è importante stare attenti non è detto che se un edificio è B da scheda Aedes è per forza danno lieve e qui l'ordinanza 19 dà la possibilità all'autorizzazione di chiedere l'autorizzazione al miglioramento sismico anche nel caso in cui io ho un edificio B o C posso avere anche difficilmente la situazione opposta che un edificio targato E poi non ha i danni per essere per andare nell'ordinanza 19 di solito questo avviene più per assurdo per le strutture in muratura che per le strutture in cemento armato le soglie di danno del danno grave pareti interne e pareti esterne devono essere sempre eseguite al netto dell'intonaco e come si fa a valutare la superficie prospettica vabbè qui c'è sta un caso uno deve fare la scomposizione delle superfici e fare la somma delle superfici e vedere se questo rapporto tra le superfici e no viene considerato chiaramente bisogna andare a considerare se io ho una lesioncina piccola non posso considerare tutto il pannello ma devo andarla a considerare e qui c'è la risposta a un quesito a una fac che hanno fatto al 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 commissario lo stesso per le quando io una una parte crollata devo andare a misurare la la situazione effettivamente crollata cioè chiaramente qui io gioco e queste due pareti ormai non sono si sono sgredolate e qui apro un'altra parentesi in queste situazioni è inutile che noi andiamo a parlare di murature questa non è altro che una cozzaia di pietre una sopra l'altra e qui mi ritorna in mente quello che diceva il professor Mariani in cui bisogna e il professor Borri cioè bisogna capire che una muratura si definisce tale quando è monolitica se non ha monoliticità quella non si può definire muratura per cui il danno è ancora prima cioè se la muratura non può essere definita tale io non la posso andare ad infilare in questa situazione tra l'altro questa tabella non tiene conto della tra virgolette sovrapposizione dei danni vabbè qui è quando ci stanno i crolli molto evidenti non ci stanno problemi di sorta chiaramente e e qui lo stesso per il crollo delle strutture orizzontali del crollo bisogna andare a misurare esattamente quello che è crollato rispetto a quello che è rimasto su lo stesso perle i fuori piombo e qui sorrido con William che scrive chiaramente chissà se avrebbero come dire se voleva se portava se scanner se ce l'accettavano volevano la la situazione con il calibro vabbè qui era non c'era bisogno a occhio se poteva fare però chiaramente questa mi sembra evidente che non non può essere non può essere cioè la tecnologia va avanti e per cui sicuramente vanno vanno tenute in conto queste nuove tecnologie che ci aiutano a misurare in maniera più opportuna queste cose ecco chiaramente queste tra l'altro questa io la conosco benissimo perché è una casa che sta vicino a casa dove abita la nonna di mia moglie qui è il terremoto del 97 a Sellano pertanto hanno messo un po' insieme queste non sono foto che ho fatto io sono delle slide appunto che ha preso la regione Umbria e questa non è altro che hanno preso delle foto del 97 poi lesioni di stiacciamento la lesione di stiacciamento è una delle lesioni più difficili da evidenziare per esempio è lesione da stiacciamento questa io sinceramente la lesione da stiacciamento si vede molto bene all'interno delle strutture quando fondamentalmente l'intonaco si piega perché la nostra lesione di stiacciamento avviene normalmente per stiacciamento della malta che non esiste per niente pertanto molto spesso queste lesioni di stiacciamento vengono definite perché c'è un abbassamento della rima di malta una volta sono riuscito in un edificio sempre qui a Camerino sono riuscito a dimostrarla perché avevano stuccato con del cemento esternamente bene tutte le stuccature erano state espulse perché chiaramente la malta tra tra una pietra e l'altra si era schiacciata e aveva espulso rigidamente tutte le stuccature nuove che erano state fatte danno o carenza questo è danno e quest'altro è carenza quando io ho una di stacchi localizzati perché questa è una carenza perché qui chiaramente c'è una porta chiusa male cedimenti di fondazione qui è un'altra cosa il cedimento di fondazione è una di quelle cose che si misura sempre tanto male perché uno deve dare almeno la assunzione che qualcosa stia stia fermo per cui bisogna sempre inventarsi qualche cosa ipotizzando che almeno un punto una parte del piano sia fermo spessissimo per fortuna il cedimento viene localizzato su degli angoli ed è evidente anche attraverso lesioni sui soprattutto sui solai di piano terra sui piavimenti di piano terra per cui prendendo come fisso lo spigolo più lontano a volte con o il laser scanner o molto più pedestramente con i livelli laser si riesce a vedere l'abbassamento di quella parte dell'edificio questo è il calcolo dell'edificio questo sempre torniamo addirittura mi viene da sorridere prendono il e qui dovrebbe parlare Stefano sulla correttezza delle misure prendono le misure con due cifre dopo la virgola ma innanzitutto quando è stato calibrato questo calibro secondo come si può ripetere questa misura terzo chi è andato a fare questa misura ma lasciamo perdere perché dopo facciamo altre polemiche che sono inutili problemi nei nodi soprattutto del calcestruzzo bisogna conteggiare i nodi che si sono rovinati o che hanno subito degli stiacciamenti o delle lesioni o dei tagli lo stesso le tamponature come vengono vengono tagliate e bisogna stare attento anche alle scusate a a quello che succede negli angoli perché bisogna sempre andare a controllare se quando ci sono questo tipo di lesioni se il pilastro ha subito problemi o meno e bisogna stare molto attenti perché a volte il pilastro che il calcestruzzo in generale è molto generoso per cui che cosa fa magari si richiude quel tipo di lesione e pertanto io non riesco a vedere la la lesione originale ma vedo soltanto una cavillatura per cui bisogna stare attenti e capire se quella cavillatura è profonda secondo se quella cavillatura ha comportato un problema anche nell'acciaio al di sotto le carenze le carenze qui c'è c'è una formuletta scema se ho ci sono carenze alfa e carenze beta a seconda del conteggio delle carenze alfa delle carenze beta posso andare in vulnerabilità alta vulnerabilità significativa o vulnerabilità bassa ad esempio assenza o irregolarità delle connessioni della muratura nelle angolate a mattello e vabbè e questa può essere una carenza questa tra l'altro è una muratura a sacco e come potete vedere è completamente spangiata a destra e a sinistra poi vedo un messaggio di Stefano che mi dice ah niente no era un messaggio precedente collegamenti orizzontali chiaramente qui non ci sta nessun cordolo questi i solai sono stati messi più o meno la come viene strutture spingenti carenza della qualità della muratura apro una parentesi qui non ho portato un bestiario che a Stefano ho mandato andando in giro per l'Aquila e per Camerino e anche altri posti si vedono martinetti piatti fatte in tutte le salse in tutti i posti e in tutte le maniere per carità è vero che gran parte di noi ha fatto e fa prove sui materiali ma andare a far prove sui materiali quando il materiale su cui dobbiamo andare a fare le prove non già non è possibile farlo è praticamente assurdo fare mi è capitato di vedere una muratura molto simile a questa dove avevano tagliato sostanzialmente le pietre avevano fatto avevano inserito il martinetto piatto qui ha un senso? oppure a Camerino hanno fatto un martinetto piatto nel rimbotto di una nella chiusura di una porta perché? perché era l'unico posto dove c'è stava in un edificio tutto in fatto in arenaria l'unico posto dove c'erano i mattoni era la chiusura di una porta hanno fatto il martinetto piatto sulla chiusura di una porta ha un senso? dobbiamo dare dei valori ma è vero che dobbiamo guadagnare noi però da un punto di vista deontologico e di qualità professionale ma possiamo consigliare una cosa di questo genere irregolarità in piante e irregolarità in altezza e qui collegamenti inesistenti e inefficaci perché tra la tamponatura esterna e la tamponatura interna ci avevano messo queste pseudo collegamenti questa è una scheda di riepilogativa di come si va a seconda degli edifici a seconda del tipo di abitazione a seconda degli anni quali ordinanze vanno tenute in conto quali costi posso andare a prendere quali riduzioni devo avere nel caso e se ci sono gli scaglioni io ho finito per cui vi preoccupavate tanto del mio orario io con un non so adesso se con un'oretta sono riuscito a far tutto pertanto ridiamo santo se è il caso adesso facciamo una risposta facciamo un un una una serie di domande che mi avevano fatto adesso le vedo un attimo dunque allora scusate qui analisi programmata e segui più tardi e segui più tardi allora direi sì magari la lasciamo anche registrata vedi se puoi rispondere tu stesso alle domande che ti hanno allora vedo 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 dunque un attimo qui perché ce ne sono grande Roberto qui non so dunque aspetta vediamo un attimo il catastro no questo era il catastro delle grotte sono riuscito purtroppo a seguire la call niente poi qui c'è stava un ah Giuseppe c'è uno sponsor dai finiremo prima delle 23 sì poi anche negli altri siti lo spettro è sottodimensionato sì purtroppo qui infatti la questione degli spettri è una questione molto dibattuta e ci sono varie categorie di pensiero sostanzialmente il nostro spettro la nostra mappa di pericolosità è una mappa che si basa sulla statistica e pertanto si tiene conto della pericolosità della probabilità di che può venire quel terremoto il famoso tempo di ritorno di 475 anni ovvero la probabilità di superamento del 10% in 50 anni però come dicevo prima il nostro questo tipo di probabilità di questo tipo di mappatura sismica tiene conto molto dei terremoti sopra i 20 km dal nostro sito ma se per caso io ho una faia sotto al mio sedere non tiene conto di questa di questa particolarità e dovremmo essere noi progettisti a tener conto di questa particolarità non è semplice ma si può fare quali sono le scuole di pensiero probabilistica è quella che va per la maggiore è quella che l'ingv sponsorizza è quella che è alla base della nostra mappatura sismica c'è un'altra scuola di pensiero capitanata ad esempio dal professor Panza dell'università di Trieste che è quella deterministica e pertanto loro dicono che bisognerebbe prendere il terremoto più gravoso in quel determinato posto tenendo conto della delle delle faglie che ci sono l'intorno e pertanto uno dovrebbe mappare questa la pericolosità su questa base sostanzialmente questa sicuramente porterebbe a una gravosità ad un costo molto maggiore dei nostri edifici l'altra scuola di pensiero che per esempio è portata avanti dal professor Tondi dell'università di Camerino è quella di correlare di fare di fare una statistica doppia variabile che tenga conto della probabilità di superamento del sisma tipo quella che c'è adesso ma anche tenga conto del tempo passato dall'ultimo sisma questo purtroppo io faccio una faccio una critica per entrambe queste due scuole di pensiero quella tempo dipendente ci sono delle dipende dipende appunto dalla dalla storia sismica di quel luogo se ho degli archivi molto molto importanti per esempio qui nella zona di Camerino studi che ha fatto il professor Tondi noi abbiamo che nel 1300 c'è stato un forte terremoto nel 1700 c'è stato un forte 1799 c'è stato l'altro forte terremoto e tra il 97 e il 2016 c'è stata l'altra l'altra crisi sismica pertanto diciamo ogni 350 anni ma tre punti fanno statistica ma non solo ma io ho avuto la fortuna e qui guardo santo perché parlo di una zona che forse conosce nella zona di Selinunte nel parco ecologico di Selinunte io sono andato a studiare perché mi avevano chiamato per fare una risposta sismica locale sono andato a studiare lì purtroppo di storico cioè se stanno i terremoti quelli del 400 avanti Cristo storici e del 700 avanti Cristo e dopo Cristo scusami che hanno probabilmente demolito in parte le le strutture di Selinunte e poi ci sta quello del del Belice del Belice io ho due punti in una scala temporale tre punti in una scala temporale di cui due incerti perché quelli del 400 avanti Cristo e del 700 dopo Cristo e io non li posso prendere o è l'incontrario adesso non mi ricordo però diciamo quelli intorno all'anno zero io come faccio a prendere dalle descrizioni del danno dei latini quello che qual è stata la magnetuto del terremoto per cui sicuramente questi tempodipendenti hanno delle carenze da un punto di vista statistico cioè nel senso alcune zone sono maggiormente coperte altre molto meno quelle invece deterministiche purtroppo sicuramente sono più sicure perché io faccio la casa con il massimo terremoto che può arrivare pertanto lì funziona come al solito bisognerebbe essere ingegneri e non dei passacarte per dire quello che bisogna fare allora sicuramente per gli edifici strategici e penso agli ospedali il metodo deterministico sarebbe quello più importante perché chiaramente comporta che un edificio non si danneggi il tempo dipendente secondo me va visto nell'ottica della prevenzione in questi termini per esempio noi abbiamo una zona che è quella della Piana del Fugino che sicuramente è quella dove probabilmente ci deve essere ci potrà essere un terremoto molto forte fra un po' di tempo che succede che lì bisogna indirizzare le poche risorse che abbiamo per la prevenzione è questo che bisogna fare cioè bisogna e poi noi progettisti dobbiamo conoscere e parlare con i geologi perché in questa maniera riusciamo a capire quali sono come possiamo come funziona la mappa di pericolosità e andare ad inserire perché ci sono programmi che lo fanno cioè ci sono procedure per tenere in conto delle faie più vicine dei 20 chilometri e capire come queste possono influenzare il nostro spettro Roberto Andrea Pace chiede ti chiede se sarebbe necessario opportuno effettuare sempre un calcolo di risposta sismica locale così come consigliato dalle norme tecniche del 2018 generalmente lo spettro di risposta sismica calcolato è sempre più gravoso rispetto a quello di normativa perfetto allora infatti questa è una domanda che coglie la palla al balzo faccio un piccolo sondaggio alla fine se me lo permettete allora rispondo ad Andrea io faccio sempre risposta sismica locale perché se noi leggiamo le normative la lo state se noi leggiamo le normative le NTC l'approccio semplificato è residuale noi dobbiamo fare la risposta sismica locale e soltanto se abbiamo una situazione ocimale e semplicistica che possiamo ricondurre a quello che è scritto sulla tabella allora possiamo applicare il semplificato ma basta un contrasto di impedenza cioè una variazione forte di velocità per esempio se io ho uno strato tranquillamente che tutto viaggia nei primi 30 metri viaggia a 360 e per cui sono in C tranquillo o B secondo anche in B ma se sotto ho uno strato che viaggia a che ha una velocità di 1800 io ho un contrasto di impedenza cioè una differenza tra rapporto di velocità di 1 a 6 1 a 5 bene quel contrasto di impedenza mi crea grandissimi problemi in superficie pertanto è importante conoscere guardate che una delle fesserie che noi tutti firmiamo perché non leggiamo le relazioni geologiche è il fatto che la cosa fondamentale che ci sta scritto e questo molti non lo leggono o lo sottovalutano che non è detto che noi dobbiamo prendere i primi 30 metri perché noi dobbiamo conoscere la profondità del bedrock la profondità dello strato con velocità maggiore 800 dopodiché conosciuto questo posso andare a considerare i primi 30 metri ma io devo sempre sapere dove sta questo cacchio di bedrock è fondamentale e pertanto rispondo che va fatta la risposta sismica locale sempre Michele Carini chiede che nel caso in cui l'OSR asserisce che il danno è preesistente o che c'è una preesistente vetostà deterioramento come si può giustificare o difendere inoltre spesso insistono sulla causalità fra danno terremoto esista maniera per mettersi al riparo da inutili discussioni allora purtroppo su questo sul danno preesistente o non preesistente quando sono passati quattro anni lo sai che il problema è grosso questo è un problema veramente grosso perché io sono entrato in una casa sostanzialmente sei mesi dopo il terremoto e avevo un danno ci sono entrato adesso sembra che quella casa non era abitata cioè sono nate le piante dentro l'edificio ci pioveva chiaramente sono nate le piante questa dice una casa che non era mai stata abitata allora qui il problema grosso è primo i comuni devono rispondere sul fatto se quell'edificio era abitabile o non abitabile abitato o non abitato danno preesistente come loro come tu non riesci a vedere a dimostrare qual è il danno se c'era o non c'era nemmeno loro riescono a dire l'incontrario cioè purtroppo è una discussione e su questo bisogna essere strutturati noi come ingegneri a dimostrare che questa cosa è possibile che abbiamo ragione noi ecco purtroppo non è semplice questo veramente Michele non è facile è cagnara sostanzialmente te la dico proprio come 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 la butola sempre perfetto ci sono altre domande per Roberto ok Roberto grazie mille per il tuo contributo a questi webinar dell'associazione scusa sì dimmi dimmi allora volevo mi sono dimenticato non ho lanciato il sondaggio come sono io sono molto sto studiando da molto tempo la risposta sismica locale e vabbè ho circa un migliaio di slide su questo argomento per cui molte più di queste che sono molto più complicate devo dire se può essere una cosa interessante magari mandate un messaggio sul sul gruppo whatsapp perché magari allora con Stefano e te Sandro magari facciamo facciamo un flash anche su questo argomento che secondo me è molto molto importante va bene perfetto lo giriamo allora nella chat dell'associazione questo sondaggio già vedo che qualcuno gli piace Massimiliano è non so chi e quest'altro Massimiliano è un altro che non so questo e non so chi va bene io allora Stefano perdonami se non ha niente da aggiungere era un sondaggio che volevo lanciare io volevo ringraziarli entrambi perché veramente hanno fatto due ottime presentazioni molto interessanti e soprattutto citando la realtà dei fatti andando a toccare con mano ciò che i professionisti soprattutto per quello che riguarda le pratiche del terremoto toccano giornalmente quindi la ritengo assolutamente molto positiva per l'appuntamento e e niente ringrazio entrambi sia a William che a Roberto e adesso ci la prossima settimana altro appuntamento saluto a tutti io vi ringrazio per William che mi sta sentando adesso per salutarci non lo so grazie a tutti grazie a tutti ecco se William vorrei entrare voi saluta tutti anche qui ciao William grazie certo quei rilievi gridavano vendetta rispetto ai tuoi però dai su no no però sei stato un grande soprattutto la citazione per quanto riguarda il discorso degli amministratori avete qualche altra domanda da porre c'è anche un William dei sindaci che sono amministratori c'è qualcun altro che vuole fare qualche altra domanda perché i centri i centri storici del nostro patrimonio territoriale dovrebbero essere monitorati e registrati perché quelle cose che hai fatto vedere io sì ho mostrato il mausoleo di Tudorico ma di rilievi fatti con l'ase scanner di agglomerati come hai fatto vedere te ne ho fatti tanti e ne dovrò fare ancora e se c'era una memoria storica sarebbe stato molto meglio io faccio questo mestiere perché l'anno che ho fatto l'esame di stato è venuta giù la volta ad Assisi del famoso spot di TG5 quando c'era con la seconda scossa c'era un topografo sotto che è rimasto là quella è stata la mia vocazione io faccio questo mestiere sono uno strumento per chi deve far stassusto fare di muore bene perfetto io vi ringrazio ringrazio dell'ospitalità ringrazio a quelli che hanno avuto la cortesia di sentirmi e mi scuso per le mia per il mio dupiloglio che ogni tanto viene fuori e le mie frasi in dialetto ma ci tengo molto a essere gamerti e alle mie uffinali ci tengo molto buonasera a tutti grazie mille ci vuole grazie mille grazie a tutti di partecipare prego Stefano ringraziare nessuno l'associazione di tutti tutti e tutti coloro che vogliono esprimere contribuire in qualsiasi modo lo possono tranquillamente fare fino adesso abbiamo organizzato tre webinar con sei ottimi relatori e anche altri quindi questo è un modo di poter collaborare sinergicamente tra professionisti funzionari considerando che in associazione noi abbiamo non solamente tecnici dei laboratori direttori dei laboratori ma abbiamo funzionari della pubblica amministrazione professori universitari società di ingegneria di diagnostica quindi produttori di strumentazione quindi questo è un modo è un mondo giusto per cercare quanto meno di fare cerchio e di comprendere cosa va bene cosa si può migliorare buona sera perfetto grazie a tutti e al prossimo webinar ciao ciao